ed eccoci siamo nuovamente insieme una buona serata a tutti voi amici e amiche di angoli soprattutto ben ritrovati ma soprattutto prima di iniziare questa nostra serata insieme vi ricordo come sempre come potete restare in contatto con la nostra redazione molto semplicemente basta scrivere una mail al nostro indirizzo angoli chiocciola espansionetv.it e dedichiamo questa serata insomma le previsioni per il mese che appena iniziato abbiamo tutto il mese di novembre davanti a noi e c'è l'esperto invece davanti a me davanti a tutti voi che guardate angoli questa sera franco copes benvenuto grazie dolores è un ben ritrovato a tutti gli ascoltatori ti devo dire che il mese scorso ne ho ricevuto tante telefonate di complimenti eccetera ma molte telefonate che forse non volevano farmi complimenti quando ho che ci darai i numeri da giocare all'otto e infatti questa è una delle novità di questa serata ma approfitto subito franco se tu sei d'accordo anche per ricordare che questo è l'appuntamento mensile nel quale franco viene qui in studio ad angoli e ci racconta cosa ci accadrà durante il mese ma in realtà poi tutti i giorni potete essere in come dire aggiornati su quello che vi accade basta andare sul sito www.prealpina.it cercare ovviamente nella sezione oroscopo e lì saprete come comportarvi lì diciamo è più è sempre segno per segno ma per ogni decade la riete prima decade seconda decade terza decade quello che faremo il mese prossimo ai nostri ascoltatori benissimo quindi di novità in novità insomma ogni volta ci sarà qualche cosa assolutamente da non perdere per questo appuntamento come abbiamo detto iniziamo con quelle che sono le previsioni dei primi sei segni della zodiaco la volta scorsa me le hai fatti ripassare andavi avanti tu volevi sapere volevi sapere perché siccome io so che negli ultimi segni c'è qualcuno che ti interessa e volevi sapere eri molto curiosa insomma nella seconda parte di angoli sarò soddisfatta nella mia curiosità permettimi di dire che questa volta salterò la vergine e questo insomma ha già creato confusione nello studio bene allora franco a te la parola passiamo con il segno? ariete perfetto allora oggi venerdì 3 novembre quindi per voi del segno dell'ariete sarà un mese visto che proprio cominciato da due giorni no in cui dovete sempre ricordare che chissà attendere il momento giusto può muoversi ed essere più maturo chi agisce precipitualmente è insicuro cioè quindi per quelli dell'ariete devono andare cauti in tutto quello che faranno in questo mese di novembre prudenza però per voi dell'ariete eccoci qui giocate sulla ruota di milano ripeto ruota di milano i numeri 5 38 42 non mi stancherò di ripetere di giocare con parsimonia cioè non esagerate giocate perché se dovete vincere vincete se non si può si vince quindi nessun accanimento deve essere solo un modo per divertirsi con insomma pochi spiccioli eh mi raccomando quindi prima le cose importanti bravissima e poi a me piace specificare perché sai nelle volte io ricevo telefonate che mi chiedono ma quanto devo insomma pochissimo noi diciamo sempre pochissimo e soprattutto dopo aver fatto le cose importanti perfetto bene quindi aria toro mi ero persa bene toro toro mi sono ritrovata per voi del toro attenti a non illudervi inutilmente correte il rischio di dare una percerta una proposta che invece sarà ancora da discutere nei minimi particolari tutto questo in ambito lavorativo voi del toro il mese di novembre dovete cercare di capire che cosa volete fare perché le proposte che vi verranno fatte potrebbero essere proposte interessanti ma che potrebbero crearvi qualche problema quindi valutatele ma saranno proposte che poi il mese di dicembre potrebbero essere interessanti anche perché poi arriva la fine dell'anno si tirano i conti insomma quindi prudenza anche per il toro sì i numeri allora per voi del toro io ho un po' elaborato anche per il segno che siete testardi, cocciuti eccetera giocate sulla ruota di Napoli questi numeri con tutte cadenza 7 17, 57, 77 quindi un numero ricorrente, il 7 è un bel numero esatto bene insomma quindi ricordiamocelo beh io abitavo a Milano in via Piranesi 43, 4 e 3 7 ah è vero perché poi insomma la numerologia ci racconta tante possibilità potremmo parlarne poi è un'altra bella, è un altro bello splutto stavolta ti aiuto io andiamo col segno dei gemelli meno male grazie che per voi il mese di novembre sarà dovete imparare a rilassarvi ogni giorno i problemi non vi sembreranno insormontabili e li affronterete con maggior predisposizione d'animo consiglio aspettatevi novità destinate a rendervi felici tutto questo devo dire alle giovani nuove coppie a chi si è sposato in estate ci sono delle grosse novità e molti ragazzi o molte persone che stanno cercando lavoro potrebbero trovare lavoro e che bella notizia insomma aspettative positive quindi insomma forza coraggio assolutamente per voi del segno dei gemelli i numeri da giocare sono sulla ruota di Palermo e sono il 23 il 37 e l'87 quindi anche in questo caso vedo che il 7 in qualche modo continua ad essere presente cosa viene? è cancro sono io allora se me lo permettete sono cose belle per favore non l'ho fatto perché lei è del cancro l'ho fatto proprio per il segno del cancro per chi è in cerca dell'anima gemelli novembre promette fuochi e fiamme addirittura passerete delle serate all'insegno dell'allagria e della felicità qui guardate com'è possibile vincite al gioco ah beh quindi subito i numeri adesso me li segno allora giocate sulla ruota di Torino 22 50 e 58 22 è la tua età sì sì per gamba beh comunque no era una battuta ovviamente io ho 22 anni certamente certamente non ti permettere di contraddire mai bene quindi dopo il cancro arriva il leone perfetto bene allora per voi del leone la vita sociale vi darà delle grandi soddisfazioni ma anche qualche problema pratico potrebbe crearvi del nervosismo mantenete la calma e troverete una soluzione per tutto ma tutto questo per il leone perché in mese di novembre ci saranno molti leoni che hanno deciso o prenderanno delle decisioni per un cambio casa un ristrutturare casa ma un consiglio che vi do poi se potete rimandare in primavera sarebbe opportuno insomma anche in questo caso un pochino di attesa di riflessione per voi invece solo sulla ruota di Torino vi do due numeri il 6-7 66 e naturalmente indovina e poi il 70 cosa c'è? un 7 c'è anche in questo caso un 7 un 7 non riesco a volte a immaginarmi per il semplice fatto che anche i numeri li faccio in base al segno dello zodiaco e quindi in quasi tutti un 7 c'è e questo ci fa piacere perché è un numero che ci piace e approfitto per ricordarvi che insomma questi numeri vanno tenuti preziosi vanno giocati ma davvero investendo pochissimo e soprattutto dopo aver fatto le cose importanti e questa è una regola e ad angoli ci piace ricordarla direi che la Vergine non anche perché no ma non lo dobbiamo saltarla no assolutamente quindi voce alla Vergine ok a voi della Vergine il lavoro lo dovrete affrontare con una questione che si trascina da un po' di tempo quindi per voi vergini cercate di portare avanti questo problema che avete e che si risolverà con un nulla di fatto nei primi 15 giorni saranno dal 15 alla fine del mese di novembre che avrete partita vinta e riuscirete a sorpassare una persona che vi ha deluso in questo periodo professionalmente comunque di fatto sembra che tutti questi primi sei segni dello zodiaco di fatto debbano insomma essere un po' prudenti aspettare stare alla finestra osservare insomma non avere premura diciamo che va detto quello che si sente perché dare sempre cose belle cose belle non è corretto anche perché la vita non è fatta purtroppo solo di cose belle anche se perché le cose belle le possiamo avere e poi arrivano comunque ci sono quindi insomma diamo spazio anche al resto e anche ai numeri giocate sulla ruota di Vari 14 47 58 quindi anche in questo caso abbiamo dei buoni numeri a disposizione approfitto ancora per ricordare che queste sono le previsioni che Franco ci regala per tutto il mese di novembre che abbiamo di fronte a noi siamo di fatto soltanto proprio all'inizio ma se siete curiosi e volete ogni giorno avere insomma qualche indicazione vi ricordo che potete visitare il sito www.prealpina.it nella sezione oroscopo e insomma avere delle indicazioni giornaliere questo ci piace molto Franco come sempre un'altra cosa che ci piace molto fare con te è un pochino di gossip perché tu insomma sai tutto di tutto torniamo sul Grande Fratello che continua ad essere protagonista ovviamente ma con indici di ascolto non indifferenti non indifferenti anche perché l'hanno allungato di due settimane ecco e questo infatti insomma la dice lunga perché questa possibilità di rimanere ancora di più a far compagnia è la curiosità che vuoi beh guarda adesso manca davvero troppo poco quindi la lancio e poi rientriamo quando rientriamo in studio così è il tempo di pensarci c'è stato un battibecco incredibile quello tra due grandi donne Serena Grandi e Corinne Clary quindi concentrati su questa cosa perché andiamo in qualche minuto di pausa poi torniamo ad angoli e riprendiamo con i segni e con il gossip restate lì ed eccoci siamo di nuovo in studio siamo sempre ad angoli prima di riprendere la nostra chiacchierata insieme vi ricordo come restare in contatto con la nostra redazione molto semplicemente basta scrivere al nostro indirizzo di posta angoli chiocciola espansionetv.it e continua la nostra chiacchierata con il nostro sensitivo del cuore il nostro Franco Coppes che insomma torna tutti i mesi l'avverti ritrovato è stata una cosa molto bella bene bene mi fa molto piacere anche perché anche se mi avevi trattato male in passato non trattato male mai nessuno quindi neanche te ma torniamo al nostro argomento io speravo che lo assolutamente no ascolta quindi questa come dire questo attrito questa forte frizione questa discussione che ci ha lasciato un po' perplessi io do ragione a Serena Grandi nel senso che posso capire un matrimonio fallito che cosa però fare una guerra dopo la morte di una di una persona non è corretto poi secondo me le parole di Clorin Clary sono state un po' troppo pesanti insomma mi piaceva qualche anno fa Clorin Clary ti devo dire questa sfuriata me la me la proprio e poi da parte di due signore perché in realtà insomma parliamo di due signore non di due ragazzini che io spero che vada in nomination beh adesso poi questo si vedrà perché il grande fratello ha sempre spero che vada grandi grandi colpi di scena questa disputa insomma tra Serena Grandi e Clorin Clary per di fatto un rapporto che vede come centro dell'attenzione questo uomo che appunto è scomparso è stato il marito di Serena e poi successivamente anche il marito sai che non so se sia stato suo marito è stato marito di Serena Grandi e poi si lasciarono insomma e dopo due anni scoppiò l'amore tra questo signore e Clorin Clary insomma sulla base di tutto questo se no non voglio essere no mi sembra di aver detto capito che lei è solo la vedova ma non era sposata infatti Clorin Clary non è sposata mentre Serena Grandi è stata e c'è anche questo figlio insomma di mezzo quindi su questa cosa si sono davvero accesi gli animi se vogliamo vedere parlare chiaro e tondo Clorin Clary non ha nulla da vedere con perché il marito era di Serena Grandi quindi la vedova in sostanza anche per la Chiesa tutto quello che vuoi eccolo e rimane Serena rimane Serena insomma quindi questa diatrima che ci ha lasciati un po' insomma tristi soprattutto perché due signori che siamo abituati insomma ad inquadrare in un certo modo si sono scontrate in maniera accesa e questa cosa hanno fatto la storia del cinema italiano anche questo è un aspetto molto importante quindi speriamo magari che nel nel prossimo futuro ci sia invece un altro confronto amichevole dove tutto finisce bene perché insomma io voglio essere positiva ma ti devo dire che Ilari Bliasi si era un po' incavolata si era rimasta abbastanza indispettita da come sono andate le cose sia con loro che con altri gossip insomma abbiamo materiale tanto ci incontreremo molto spesso e continueremo a parlare di tutto questo ma magari parleremo anche di qualcosa di più soft certo certamente torniamo ai nostri segni Franco che ne dici ce ne mancano ancora sei e poi ci sono i numeri quindi io non lo so dove è Vergine è Bilancia non è i pesci no siamo alla Bilancia non facciamo il percorso al contrario la prossima volta insomma vedrai ti stupirò e li saprò anche al contrario Bilancia allora per voi della Bilancia in ambito professionale è in arrivo una proposta molto interessante che potrebbe ribaltare la vostra situazione in meglio attendete fiduciosi quindi voi della Bilancia via la grande e vedrete che questo mese di novembre vi porterà delle grosse grosse opportunità bene per voi giocate sulla ruota di Firenze 16 28 37 quindi anche in questo caso il 7 torna vedi un po' che non ci lascia per tutto questo mese di novembre quindi abbiamo detto la Bilancia e a questo punto te lo dico io lo scorpione lo scorpione esatto per voi lo scorpione è un mese che mi dico state tranquilli però tutto ciò che riguarda la famiglia sarà messo in discussione ma soprattutto sentirete dentro di voi due desideri diversi quello di cambiamento e quello della stabilità valutate qual è la cosa da fare qui potrei dirvi cambiamento stabilità perché molti dello scorpione potranno arrivare a prendere queste decisioni ma il consiglio specialmente alle copie collaudate stabilità ecco quindi insomma un'indicazione precisa e neanche troppo tra le righe i numeri giochiamoli sulla ruota di Napoli e sono il 12 il 69 e il 78 bene quindi prendete nota e giocate come abbiamo detto con parsimonia solo con quello che non vi serve e che sia comunque poco dopo lo scorpione arriva il sagittario ragazzi prepartissima per voi del sagittario dovete evitate di mostrarvi troppo permalosi in tutto quello che vi verrà detto vi verrà fatto siete in un periodo in cui non avete voglia di nulla ma avete voglia di tutto molti del sagittario avranno il mese di novembre con delle grosse difficoltà professionali ma anche con delle certezze economiche quindi se nel lavoro qualcosa non va o perché avete dei battibecchi con una collega con un collega evitate tanto alla fine del mese lo stipendio arriva ed è anche buono quindi serenità pazienza e insomma lasciar correre non lasciate il certo per l'incerto mi raccomando non è il momento è altro che certamente non è il momento i numeri ok Cagliari 1 28 41 benissimo quindi anche in questo caso abbiamo dato delle indicazioni dopo il sagittario se non mi sbaglio arriva il capricorno che è il tuo segno quasi promossa quasi promossa allora cari capricorno sarete in vena di cambiamenti ed avrete una gran voglia di sperimentare cose nuove quindi mi raccomando voi del capricorno perché avete novembre dicembre e poi ne parleremo per il 2018 un momento di risalita anche se devo dire i mesi passati il capricorno momenti sì momenti no però voglio sempre ribadire che è molto importante la 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 scendente la scendente è vero no devo parlare con la direzione perché mi sa che devi studiare ancora questo aspetto che io non sappia che la scendente è così importante è drammatico davvero quindi mi raccomando perché il vostro atteggiamento potrebbe essere inutile e avere poi delle conseguenze negative per voi del capricorno consiglio sulla ruota di Milano il 28 il 47 e il 54 no ma scusa adesso ti prendo io in castagna Franco perché tu mi prendi in giro e mi dici che l'ascendente è importante tu stai dando i numeri dell'otto del segno quindi devo giocare quelli del segno e anche quelli dell'ascendente bravo vedi sarei arrivato alla fine e l'avrei detto ma non parlerò più male con la direzione bravo benissimo casomai è una nota di merito quindi allora quando ho finito ti dico allora attenzione cosa viene eh la riete no è l'acquario l'acquario eccolo qua scusatemi ecco per voi dell'acquario vi date un grande affare per trovare ciò che vi occorre siete in un momento in cui tutto quello che farete toccherete il dipingere il fare delle cose nuove o valutare sarà per voi un qualcosa che vi porterà sempre più lontano quindi per molti dell'acquario se hanno voglia di rivoluzionare la loro vita con un cambiamento totale novembre e dicembre saranno i due mesi in cui lo potranno fare ma con molta molta determinazione bene quindi attenzione perché i cambiamenti poi abbiamo visto che su alcuni segni sono sconsigliati ma i cambiamenti servono e non servono qui sì per voi dell'acquario Roma sulla ruota di Roma 2 53 e 61 bene e chiudiamo il nostro oroscopo con l'ultimo segno che è quello dei pesci bravissima malgrado le stelle contrarie discussioni e tensioni difficili da gestire sarete capiti ed apprezzati però da chi vi circonda quindi se anche le stelle sono un po' contrarie per voi dei pesci avrete l'aiuto e il supporto della famiglia quindi mi raccomando tranquilli perché poi dopo la metà di novembre per voi dei pesci sarà un qualcosa di speciale ah caspita quindi molto interessante per i pesci ci sono dei numeri naturalmente giochiamo sulla ruota di Venezia il 26 il 42 e l'83 adesso visto che mi ha preceduto mi hai preceduto volevo dirvi che se volete e chi sa il proprio ascendente giochi i numeri sia del proprio segno e dell'ascendente ah quindi è proprio così è proprio così bene perché sarà qualcosa di importante quindi insomma combinare queste cose secondo le indicazioni che hai dato perché ripeto sempre l'ascendente è qualcosa di importante senti io ti voglio fare anche voglio lanciarti come dire un'altra proposta visto che ci parli dei segni un'altra sfida certo ci hai aggiunto in questo mese di novembre anche i numeri che possiamo giocare sarebbe simpatico anche fare un approfondimento appunto nella relazione tra il segno e l'ascendente capirne un po' di più potrebbe essere sicuramente interessante che ne dici Franco quello che quello che io ti dico e invece io dico a voi che oltre ovviamente a seguire queste indicazioni che ogni mese raccontiamo anche con un po' di simpatia ovviamente l'avete capito qui in studio certo ma perché questa insomma ci vuole ci vuole davvero assolutamente poi le potete ritrovare se ne avete voglia anche tutti i giorni basta consultare il sito www.prealpina.it andando a cercare nella sezione oroscopo insomma tutti i giorni Franco Coppes vi regalerà qualche indicazione qualche chicca qualche chicca bene senti Franco in linea di massima comunque davvero abbiamo detto un mese di novembre un anno cioè un mese abbastanza sereno tranquillo poi ci si avvicina alla fine dell'anno sarà un po' complicata qualche sensazione direi che se tu sei d'accordo per il mese di dicembre faremo le decadi ecco un'altra cosa in più simpatica sicuramente questa volta abbiamo dato i numeri li diamo sempre però va bene questi giorni per forza mentre il mese di dicembre daremo segno per segno decade per decade così vediamo un po' chi si chi si rivede nella prima nella seconda nella terza e poi dico sempre di confrontare la decade dell'ascendente ah quindi davvero insomma un doppio lavoro seguire il segno seguire l'ascendente ma è molto importante un compitino in più anche la decade sai che è molto importante perché è molto importante ma perché una goccia proprio per esempio io se non vado errato tu sei un cancro ascendente scorpione se non vado errato se lo dici tu che sei tutto non voglio sbagliare però quindi sei una persona estremamente sensibile rompi scatole dove vuoi essere rompi scatole però sei una persona che ha saputo se posso permettermi portare avanti il tuo percorso con molta molta determinazione poi dopo altro è tutto privato è tutto per noi bene adesso che insomma mi ha fatto anche un pochino emozionare grazie hai parlato di me anche bene quindi a parte che io sia rompi scatole magari la prossima volta parlerò male infatti però è già andata bene così bene allora finiamo qui prima che tu cambi idea Franco io ti ringrazio come sempre tantissimo grazie a voi l'appuntamento l'abbiamo detto sarà all'inizio di dicembre parleremo ovviamente di oroscopo ma anche di tutte queste sfumature molto interessanti ricordo faremo anche un bel regalo per fine anno faremo le previsioni del 2018 in una puntata speciale una puntata speciale per il 2018 l'ho detto io prima quindi lo faremo va bene grazie a Franco grazie a voi grazie davvero buonasera a tutti bene grazie a voi che come sempre ogni sera siete in mia compagnia e come ogni sera è arrivato il momento di passare la linea ai colleghi dell'informazione grazie a tutti